Il Nord-Ovest come macro-regione, quale ruolo può giocare in Europa e che posto occupa in questo contesto il porto di Genova? Nella nuova visione macro-economica, anche in relazione al nuovo ruolo del Mediterraneo, il Nord-Ovest assume una dimensione geopolitica fondamentale. Paghiamo un ritardo colossale dal punto di vista dei collegamenti infrastrutturali e anche ad un abbandono che c'è stato molti anni fa delle relazioni strutturali, soprattutto con la Lombardia. Ora bisogna recuperare questo elemento offrendo quanto di nuovo c'è oggi nella dimensione economica. Il sistema produttivo lombardo, che è ancora uno dei principali dell'Europa, ha bisogno di abbattere i costi di logistica, di funzionalità, di economicità e questo li può essere garantito dalla funzione portuale Ligure di Genova e degli altri porti. Per cui questa relazione rappresenta qualcosa di innovativo che dovrebbe trovare anche una dimensione politica, normativa diversa, che riconosca e che vada oltre i confini dei bacini portuali che oggi sono ben più vasti rispetto a quello della cinta doganale. Diciamo che in questa sinergia di regioni quale ruolo può avere il 2015, quindi l'Expo, e in funzione appunto di Genova di nuovo? Può avere un ruolo determinante, tant'è che noi abbiamo candidato Genova come porto dell'Expo. Abbiamo avviato già una serie di relazioni istituzionali, avviati dal Comune, dalla Regione, dall'autorità portuale, dalla Camera di Commercio, che stiamo fondendo in un unico disegno che porterà un progetto Genova in vista di Expo 2015. Noi tra l'altro abbiamo un elemento di grande peculiarità rispetto alle altre realtà, perché noi non chiediamo nulla ad Expo, offriamo, visto che nel 2015 saranno ultimate tutte le opere portuali, il porto avrà una capacità doppia rispetto a quella attuale, avrà da offrire particolari avvenimenti specifici, penso a edizioni speciali di Auroflora, di Slow Fish, e di importanti realtà che nel frattempo saranno sorte, penso a Ponte Parodi e sicuramente al recupero di Annebic. Quindi la faccio a mare, la dimensione economica marittima, lo sviluppo dell'economia all'interno del Mediterraneo potranno trovare accoglienza come un appendice ideale di Expo 2015 a Genova. In più potremo offrire a tutti i paesi, che oggi sono 50, ma probabilmente saranno molti di più, che parteciperanno ad Expo 2015, tutta la parte logistica per raggiungere il prima possibile Milano, e per garantire anche un afflusso dimensionale turistico innovativo grazie alla stazione croceristica. Quindi sono molti gli aspetti che Genova può offrire e che Milano sta guardando con grande interesse.